In questo tutorial vediamo come determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica. Partiamo da questo primo esempio. Per determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica dobbiamo fissare l'attenzione sul denominatore della frazione, in questo caso è 4x, e dobbiamo imporre che il denominatore 4x deve essere diverso da zero. Risolviamo questa disequazione. Dividiamo tutti e due i membri per 4 e semplifichiamo il coefficiente della x. Quello che si ottiene è x diverso da zero. Vediamo quest'altro esempio. Per determinare le condizioni di esistenza dobbiamo fissare l'attenzione sul denominatore e imporre che 3t meno 9 deve essere diverso da zero. Risolviamo la disequazione. Portiamo 9 a secondo membro ed otteniamo 3t diverso da 9. Ora dividiamo tutti e due i membri per 3 e semplifichiamo il coefficiente di t. A secondo membro 9 diviso 3 è pari a 3 e quindi otteniamo t diverso da 3. Passiamo a questi altri due esempi e iniziamo da questa prima frazione algebrica e andiamo a determinare le condizioni di esistenza. A denominatore abbiamo 9a alla seconda e allora devo porre 9a alla seconda diverso da zero. Dividiamo tutti e due i membri per 9 e semplifichiamo il coefficiente di a alla seconda. A secondo membro 0 diviso 9 è pari a 0 e quindi abbiamo a alla seconda diverso da 0. Ora dobbiamo estrarre la radice quadrata di tutti e due i membri. In questo modo a primo membro semplifichiamo la radice con la potenza 2 ed otteniamo a diverso da zero. Passiamo a quest'altro esempio. Il denominatore risulta essere y che moltiplica y meno 2 e allora deve imporre che y per y meno 2 deve essere diverso da zero. Per risolvere questa disequazione osserviamo che abbiamo un prodotto di fattori e allora dobbiamo imporre che il primo fattore, ossia y, deve essere diverso da zero e poi il secondo fattore, y meno 2, diverso da zero. La prima disequazione è già risolta, risolviamo la seconda, portiamo meno 2 a secondo membro e si ottiene y diverso da 2. Determiniamo le condizioni di esistenza di queste due frazioni algebriche. Partiamo dalla prima. A denominatore abbiamo x meno 1 per x più 3 e allora deve imporre che x più 1 per x più 3 deve essere una quantità diversa da zero. Avendo il prodotto di due fattori dobbiamo imporre diverso da zero sia il primo fattore sia il secondo fattore e allora devo scrivere y meno 1 diverso da zero e poi x più 3 diverso da zero. Ora risolvo la prima disequazione portando meno 1 a secondo membro, ottenendo x diverso da 1. Per la seconda disequazione portando 3 a secondo membro si ottiene x diverso da meno 3. Vediamo quest'altro esempio. A denominatore abbiamo 4x alla seconda più 4 e allora devo imporre che 4x alla seconda più 4 deve essere una quantità diversa da zero. Osservo ora che 4x alla seconda, visto che questa quantità è elevata al quadrato, risulta essere una quantità o positiva o al massimo nulla nel caso in cui x vale zero. E allora mi ritrovo una somma di una quantità positiva con una quantità positiva o al massimo nulla. Tale somma certamente risulta essere diversa da zero. Questo significa che la frazione algebrica è definita per qualsiasi valore reale e in questo caso si scrive r. Andiamo a determinare il campo di esistenza di queste due frazioni algebriche. partiamo dalla prima. A denominatore abbiamo x alla seconda meno 1 e allora devo imporre che x alla seconda meno 1 deve essere una quantità diversa da zero. Osservo ora che x alla seconda meno 1 si può riscrivere per differenza di quadrati come x meno 1 per x più 1, tutto quanto diverso da zero. Ora impongo diverso da zero sia il primo fattore che il secondo fattore. ottenendo x meno 1 diverso da zero ed x più 1 diverso da zero. Risolvo tutte e due le disequazioni ottenendo x diverso da 1 e x diverso da meno 1. Passiamo a quest'altro esempio. A denominatore abbiamo x alla terza y alla seconda z e allora devo imporre che il denominatore x alla terza y alla seconda z deve essere una quantità diversa da zero. Abbiamo il prodotto di tre fattori e allora dobbiamo imporre che ogni fattore deve essere diverso da zero e scrivo x alla terza diverso da zero, y alla seconda diverso da zero e poi z diverso da zero. Per risolvere la prima disequazione estraggo la radice cubica di tutti e due membri. In questo modo a primo membro semplifico la radice cubica con la potenza 3 ottenendo x diverso da zero. Per la seconda disequazione estraggo la radice quadrata di tutti e due membri e semplifico la radice con la potenza 2 ottenendo y diverso da zero. La terza disequazione è già risolta e allora questa frazione algebrica è definita per qualsiasi valore reale quel che conta che x, y e z non siano contemporaneamente uguali a zero. Vediamo questi ultimi due esempi. Partiamo da questa prima frazione algebrica. A denominatore abbiamo 4b meno 6 e allora devo imporre che il denominatore 4b meno 6 deve essere una quantità diversa da zero. Risolvo questa disequazione. Porto meno 6 a secondo membro, 4b diverso da 6 e poi divido tutti e due membri per 4 semplificando il coefficiente di b. A secondo membro posso semplificare per 2 ottenendo 3 mezzi. Si ottiene così b diverso da 3 mezzi. Vediamo quest'ultimo esempio. A denominatore abbiamo x alla quarta meno 4x alla seconda e allora devo scrivere che x alla quarta meno 4x alla seconda deve essere una quantità diversa da zero. Osservo ora che a primo membro posso mettere in evidenza un x alla seconda e allora scrivo x alla seconda che moltiplica x alla seconda meno 4 diverso da zero. Ora impongo diverso da zero sia il primo fattore che il secondo fattore ottenendo x alla seconda diverso da zero e poi x alla seconda meno 4 diverso da zero. Per quanto riguarda questa disequazione estraggo la radice quadrata di tutte e due membri. A primo membro semplifico la radice con la potenza 2 ottenendo x diverso da zero. Per quanto riguarda questa disequazione osservo che x alla seconda meno 4 si può riscrivere per differenza di quadrati come x meno 2 per x più 2 diverso da zero. Ora vado a imporre diverso da zero sia il primo fattore che il secondo fattore ottenendo x meno 2 diverso da zero e poi x più 2 diverso da zero. risolvendo tutte e due le disequazioni si ottiene x diverso da 2 ed x diverso da meno 2. E allora questa frazione algebrica è definita per qualsiasi valore reale escludendo 0, 2 e meno 2. E con questo termino il tutorial su come determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica.